Episodio 6 di Pandas, oggi vediamo la differenza tra Lock e iLock. L'abbiamo già vista velocemente, ma non ve lo spiegate, perché volevo appunto fare un video unico, che è questo. Quindi andremo a vedere Lock e iLock. Innanzitutto cominciamo col dire cosa vuol dire Lock, vuol dire Localization, che altro non è che la localizzazione. Mentre invece questa è la Index Localization. Perfetto, quindi abbiamo la localizzazione e la localizzazione per indice. Riportiamo il tutto allo stato naturale, almeno abbiamo i diminutivi. Che cosa vuol dire Localizzare? Localizzare vuol dire andare a prendere, faccio qua tasto destro, open preview, vuol dire andare a prendere quella che può essere un'unica cella, un'intera colonna, una parte dell'intera colonna, più colonne, più righe, tutta una riga, solo questa porzione, solo questa porzione, questa porzione più questa porzione, quindi la localizzazione ci permette di andare appunto a localizzare quelle che sono le celle che ci interessano. O la singola cella, oppure un insieme di celle, e l'insieme di celle può essere appunto un'intera riga, tutta la colonna, più colonne e via discorrendo, va bene? Quindi non facciamo altro che andare a selezionare quelli che sono i dati che ci interessano. Questa è la localizzazione. Mentre la localizzazione normale avviene per tag, ovvero vi farò vedere come noi andiamo a prendere questa, questa cella qua, questa poison, l'andremo a prendere come Bulbasaur type 2, quindi andremo direttamente a dire prendimi il tipo 2 di Bulbasaur, oppure prendimi gli HP di Bulbasaur, ecco qua, in iLock, quindi localizzazione per indice, diremo prendimi la colonna 0, 1, 2, 3, 4, 5, riga 0, quindi mi prendi la riga 0, colonna 5, mentre invece nella localizzazione noi possiamo dire mi prendi la riga Bulbasaur, colonna HP, capite la differenza? Quindi la differenza indice, riga 0, colonna 5, abbiamo detto se non mi sbaglio 0,5, e ha senso, sono delle coordinate, ma sono delle coordinate numeriche. Mentre invece la localizzazione normale avviene per, se noi identifichiamo come Bulbasaur, oppure come 1 che è l'indice del Pokédex, mi prendi la riga del Pokémon 1, Bulbasaur, mentre invece l'indice sarebbe 0, a livello di programmazione, mi prendi Bulbasaur e voglio solo gli HP di Bulbasaur, ok? Ecco due modi diversi per parlare, l'indice è più a livello programmatico, mentre invece la localizzazione normale è più come ci intendiamo noi nel parlare di tutti i giorni. Detta questa cosa qua, cominciamo effettivamente, quindi per definire il fatto di chiamare le righe come se fossero Pokémon, dobbiamo andare a definire una cosa, ovvero Index Call, che abbiamo già visto per Excel, dobbiamo andare a dire che vogliamo come Index Call, avevamo messo 0 per Excel, se vi ricordate, per far sì che prendeva nome come etichetta di riferimento, qua dobbiamo andare a prendere il nome dei Pokémon, è che dobbiamo, vogliamo andare a prendere il nome dei Pokémon, perciò colonna 0, colonna 1. Gli diciamo che la colonna che vogliamo prendere è la 1. Di conseguenza lui andrà a caricare e come data frame dirà guarda che la colonna 1, quindi questa qua, il nome, sarà la colonna portante che darà l'indice a tutta la riga, quindi per prendere questa riga noi diremo o riga 0 oppure riga Bulbasaur. Va bene? Possiamo farla su type 2 ma non è univoco, meglio farlo su nome oppure id del Pokémon. Spero che questa parte sia chiara, è come se dicessimo Index Call Name, non possiamo farlo, dobbiamo mettere l'indice della colonna. Ora che abbiamo questa cosa qua, possiamo andare a printare, quindi print, vi dimostro il tutto, df.lock, perché vogliamo andare a prendere la riga, quindi lock, che cosa mettiamo? Vogliamo la riga di Bulbasaur. Bulbasaur. Se io salvo, mando a schermo con Python Index, facciamo invio e vedete che otteniamo Bulbasaur. Non ci dà in questo caso il nome, perché l'abbiamo preso come indice. Sappiamo che la riga di Bulbasaur è numero 1, tipo grass, quindi tipo erba, tipo veleno, il totale, gli HP e via discorrendo. Possiamo anche dimostrare che cambiamo con Venasaur o Venusaur, come lo chiama allora in inglese? Perfetto, dovrebbe essere quindi Venusaur, maledetti. Quindi Venusaur, andiamo qua. Vedete che ce lo prende in tranquillità, tipo 3, sempre Grass Poison. Proviamo con Squirtle. Vedete? Nessun problema, riusciamo a prendere i Pokémon per nome. Dall'altra parte, invece, se usassimo iLock, ecco qua, continuerò a fare avanti e indietro per farvi vedere le differenze, con iLock mi dà picche. Vedete? Mi dà picche perché non è, è un non integer. Se io invece vado a mettere Squirtle, dovrebbe essere, vediamo un po', 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi se io vado a mettere iLock riga 9, guardate un po', otteniamo Squirtle, ok? Water, tipo 1 water, tipo 2 none, vediamolo un po', ok? Tipo 2 none e dovrebbe essere 314 di totale, 314 di totale. Vedete? Quindi ecco come stiamo prendendo con Lock, prendiamo per nome, per etichette, per iLock prendiamo per indice. Ora, quindi abbiamo preso la riga. Vediamo di prendere la riga più la colonna. Quindi siamo qua e vogliamo solo determinate, vogliamo innanzitutto una colonna sola. Quindi una colonna e una riga fa una cella. Vedete? Quindi una colonna e una riga fa letteralmente una cella. Di conseguenza noi possiamo prendere Squirtle e vogliamo il totale, quindi total così. Se mandiamo a schermo ci aspettiamo 314, vediamo un po', è esattamente quello che ci arriva. Mentre invece qua sotto è 9 e poi il totale è 0, 1, 2, 3, 4. Perfetto, quindi 9 e 4. Vediamo un po', i totali dovrebbero essere entrambi gli stessi. 0, 1, 2, 3, 4. Proviamo 3. Ok, così ha senso. Perché? Perché probabilmente... Proviamo a fare print... Non mi sono ritrovato un attimo. Proviamo a fare print df. Ma andiamo a schermo il print df. Vediamo un attimo. Ok, nel momento in cui abbiamo identificato il nome come index della colonna, ha droppato l'1, il 2, il 3. Quindi ha droppato l'id del Pokédex. Quindi avevo contato 4, 0, 1, 2, 3 e 4. Ma avendo messo questo come indice, diventa 0, 1, 2 e 3. Questo qua è stato droppato. Ecco perché non mi tornava. Benissimo, quindi 9 e 3. Avete visto che abbiamo ottenuto lo stesso risultato. Li facciamolo vedere, magari un bel CLS. Abbiamo ottenuto lo stesso risultato. Due modi diversi per ottenere la stessa cosa. Ora proviamo a prendere più righe direttamente. Allora, cominciamo a farlo nel modo intuitivo con gli indici. Quindi innanzitutto non vogliamo tutte le colonne. Quindi vogliamo solo tutte le colonne. Perciò se faccio così, cosa mi andrà a prendere? Vediamo un po'. Mi andrà a prendere Squirtle. Vedete? Mi va a prendere Squirtle che abbiamo già visto prima. E mi prende tutte le colonne. Quindi se io volessi prendere più righe, mi basta fare semplicemente da dove voglio cominciare fino a dove voglio finire. Quindi banalmente lo slicing. Facciamo 3 che è più semplice. Facciamo 3 e vedete che prende 0, 1, 2 e 3 non compreso. Quindi 0 Bulbasaur, 2 e 3. Dall'altra parte invece con DFLoc non possiamo usare più l'indice. Vi faccio vedere. Se proviamo a usare l'indice ci dà picche. Benissimo. Quindi andiamo qua. Facciamo così. Vedete? Ci dà picche. Invece quello che possiamo fare è utilizzare il nome. Quindi vogliamo cominciare da Bulbasaur e vogliamo arrivare fino a Venusaur. Facciamo così. Mandiamo a schermo. E vedete che ci dà Bulbasaur, Ivysaur, Venasaur compreso. Mentre qua non è compreso. Quindi in iLock non è compreso. Quindi è un normalissimo slicing come abbiamo già visto. Parte da 0 e arriva fino a 2, 3 non compreso. Invece in Lock l'indice finale è compreso. Ricordatevi questa cosa aggiuntiva. Non è un problema. Cioè si fixa. Se in programmazione vi rendete... Se state facendo cose e vi rendete che non ve l'ha preso o ve l'ha preso e volevate cose diverse. Si sistema. Non è da ricordare la memoria. Diciamo che la pratica vi aiuta a ricordarlo. Quindi vedete come possiamo prendere tranquillamente per etichette. Allo stesso modo se vogliamo tutto ci basta lasciare il vuoto più totale. Volete tutto? Lasciate i due punti come lo slicing normale. Volete solo alcune colonne? Va benissimo. Quindi abbiamo visto come prendere più righe. Vediamo come prendere più colonne. Ci mettiamo qua. E per prendere più colonne apriamo una lista di colonne. Perciò vogliamo il name. Non so se riusciamo a prenderlo. Onestamente proviamo. Quindi potremmo volere name. Potremmo volere il type 1. Potremmo volere gli hp. E perché no mettiamo il totale così. Vediamo se ce lo prende. Perfetto. Mi dà problemi sul nome. Non è un problema. Ci ho provato. Perfetto. Facciamo così. Mandiamo a schermo. E vedete? Mi ha mandato tutte le righe. E mi ha dato solo quelle che mi interessavano. Ovvero type 1 hp e totale. Chiaramente mi manda il nome perché è l'indice. Ma vedete che mi ha mandato le colonne richieste. Se invece volessi solo la riga 0. Prendiamo solo Bulbasaur. Ah giustamente mi darà errore. Perché mi sono dimenticato. Se volessi solo Bulbasaur. Schriviamo Bulbasaur. E voglio solo queste colonne. E vedete? È come se io avessi fatto. Così andiamo in preview. Ho chiesto Bulbasaur. E gli ho chiesto il totale HP e il type 1. Quindi 1, 2 e 3. Fate finta che il type 2 non ci sia. Gli ho chiesto questa cosa qua. Se lo facciamo per tutti. Prendiamo questa cosa qua. Capite quindi che cosa si intende per localizzazione? È letteralmente trascinare. Oppure fare control più click su Excel. Letteralmente. Proviamo a fare la stessa cosa qua. Quindi come avere più colonne qui. Allora vogliamo magari tutto. Lo possiamo far così. E che colonne vogliamo? Beh, allora vogliamo la colonna. Vediamo insieme. Vogliamo il tipo. Quindi colonna 1, 3 e 4. Ok, quindi colonna 1, 3 e 4. Benissimo. 1,3,4. E se io faccio play, vediamo un po'. Dovremmo avere non lo stesso risultato. Semplicemente perché ho manato a schermo tutto. Ma se io tolgo qua questo e metto 0 come Bulbasaur e inverto 4 e 3. Perché io ho invertito qua con HP e totale. Vi dimostro che è esattamente il medesimo risultato. Puliamo CLS. Eccoci qua. E io mando a schermo Python Index. E vedete che abbiamo maledettamente lo stesso risultato. Quindi ho chiesto. Ingrandiamo un attimo. Ok, ho chiesto la riga 0. Vedete? Che è per entrambi la riga 0. E gli ho chiesto HP totale e tipo. Quindi tipo HP e totale, tipo HP e totale. Potete tranquillamente invertire come le richiedete. Ma ci arriviamo più avanti in un altro video. Questo è quanto. Quindi avete visto come possiamo usare tutto ciò che sappiamo. Lo slicing, le colonne, gli indici. Chiedere più valori, chiedere più colonne, eccetera. Per fare la localizzazione. Localizzazione per indice e localizzazione per etichetta. Nel caso in cui non abbiamo sta cosa qua. Guardate un po'. Nel caso non ce l'abbiamo. Noi qua possiamo utilizzare lo 0. Quindi nel momento in cui le righe non sono identificate dal nome. Non è alcun problema. Perché ci va a mettere l'indice. E io vi dimostro tranquillamente che se metto 0 in questo caso ha senso. Perché? Perché se io poi vado a vedere df. Faccio un bel print di df. E magari facciamo un punto head 1. Voglio mandare a schermo solo la prima riga. Vediamo un po'. Vedete come c'è l'indice. Quindi se non c'è l'etichetta non siete obbligati a usare qua l'etichetta della riga. Va bene? Però se nel caso l'avete chiaramente dovete usarla. Se avete l'indice potete usare l'indice. È confusionario perché a volte sembra che dobbiamo usare qua l'indice e qua l'etichetta. In realtà se avete etichetta è etichetta etichetta. Se non avete l'etichetta sulla riga è indice etichetta. Mentre invece per ilok è indice e indice. Mi raccomando queste cose qua possono confondere. Ci avrei messo circa un quarto d'ora per spiegarlo perché è importante. Adesso che sapete questo direi che è molto semplice prendere i dati in base a ciò che vi serve. Bene direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video dove parliamo di iterazione. Sotto in descrizione trovate il link per il libro di Pandas e Nampai. Se lo volete acquistare su Amazon. Il link per la mia community. Per il mio sito. E come supportare il canale. Io vi ringrazio. Alla prossima. Ciao ciao.